Ciao amiche, ciao amici, inautipnosi verso le vite precedenti e mettiti in una posizione comoda, rilassata, con la schiena eretta ma non tesa e mentre ascolti il suono della mia voce e respiri lascia che l'aria possa penetrare dentro i tuoi polmoni e via via che l'aria penetra dentro i tuoi polmoni ti senti sempre più rilassato il tuo respiro diventa calma e regolare come calma e regolare diventa il respiro del mare come calma e regolare è il respiro dell'universo e inizia mentre continua a rilassarti sempre di più a fare un viaggio nel tempo lascia che il tuo corpo possa diventare pesante e rilassato mentre la tua mente può diventare sempre più leggera sempre più leggera e via via che il tuo corpo diventa pesante e rilassato e la tua mente diventa leggera la tua mente stessa può fare un viaggio all'interno del tempo andando alla ricerca di altre vite altre vite che questo continuum mentale che la tua mente profonda che la tua anima ha vissuto e tra le infinite vite possibili andrai alla ricerca di quella significativa per te in questo momento dello spazio-tempo in questo punto dello spazio-tempo in cui ti trovi questo punto che chiamiamo il qui ed ora vai esattamente lì dove è necessario andare con la tua mente e lascia che questa percezione entri dentro di te lascia che un'immagine prenda campo lascia che possa manifestarsi un'idea una situazione un'immagine lascia che questa immagine rappresenti anche il te stesso la te stessa di quella e quella allora di quell'altro punto dello spazio-tempo vissuto dalla tua mente fai questa esperienza significativa per te falla fino in fondo in modo che tutti gli insegnamenti utili possano crescere dentro di te in modo tale che tu possa portare veramente dentro di te tutto ciò che è utile e necessario da quell'esperienza di vita prendi ciò che è utile e necessario e piano piano lentamente torna al tempo presente in quest'altro punto in quest'altro punto dello spazio-tempo quello che chiamiamo qui ed ora lascia che la tua mente la tua anima ritorni al qui ed ora e adesso che sei tornato al qui ed ora fai un respiro profondo portando con te questi insegnamenti lascia che questi insegnamenti attecchiscano e diano i loro frutti e adesso fai tre respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti poi ispirala fuori fino in fondo al termine di questi tre respiri profondi consapevole di aver fatto un'esperienza molto importante per la tua vita fai un sorriso e apri dolcemente gli occhi bene questa autipnosi questa meditazione può essere usata ogni volta che noi vogliamo entrare in contatto con quelle aree più profonde che ci permettono di scoprire altre vite tutto questo ai fini di vivere meglio questa vita bene per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta in più se il video ti è piaciuto metti un mi piace condividilo con i tuoi amici ciao 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 ciao